buongiorno la carta del mese di maggio 2021 è l'arcano 13 arcano senza nome l'errata interpretazione di questo arcano con l'attribuzione del significato di morte ha spesso portato a significati che poco hanno a che fare con l'arcano stesso e spesso causa disagio nelle persone quando la carta viene estratta il senza nome o innominato è vero che rappresenta uno scheletro nella parte centrale e che esso rappresenta nell'immaginario collettivo la morte questo arcano invece ci invita a fare piazza pulita del passato il suo falciare non è dettato dalla rabbia ma dal raziocinio ma comunque sarà deciso per questo mese di maggio quindi ci troviamo di fronte a energie di cambiamento dove avremo a che fare con situazioni nelle quali ci verrà chiesto di intervenire o di cambiare qualcosa ecco che ciò che ci gira intorno sarà proprio questa capacità di dare un taglio con ciò che fino ad ora rappresentava a livello conscio una tranquillità mentre nella peggiore dell'ipotesi significava invece un impedimento alla nostra crescita coraggio quindi lasciamo andare ciò che non serve più un consiglio musicale ballo in fadiesis minore ovviamente di angelo branduardi anche se non serve più un consiglio musicale ballo in fadiesis minore ovviamente di